Torino che raggiunge il pari sulla parola spizzata da Glick, Moretti in acrobazia con il sinistro inventa una traiettoria che Tata Lusano non può frenare, 1-1, uno degli ex della partita gli altri sono Guagliarelli e Amauri che impacchina, rivediamo la battuta della banderina, Glick di testa e Moretti che non ci pensa due volte va a cercare il pallone, cerca anche la porta e trova un gol importantissimo 23esimo minuto, Torino 1, Fiorentina 1, Verona